Dal chiostro del San Domenico a Largo Mamiani. Sarà un tragitto di appena una cinquantina di metri quello che gli ambulanti dello storico mercato delle erbe dovranno intraprendere per ottemperare al trasloco forzato dal complesso del San Domenico che da ottobre inizierà l'atteso percorso di riqualificazione. Tre anni di lavoro per altrettanti di trasloco negli spazi alle spalle del municipio. E' questo il risultato del conciliante incontro avvenuto ieri in comune fra gli ambulanti, l'assessore Franco Ellucci e rappresentanti sindacali di confesarcenti e confartigianato. Il comune ha proposto tre destinazioni e gli ambulanti hanno gradito la prospettiva della galleria di Largo Mamiani, ovvero 200 metri quadrati di locali sfitti laddove erano presenti uffici comunali quali lo sportello in forme servizi. Le altre proposte erano i giardini di fronte alla caserma e alcuni locali inutilizzati in via Gramsci. Si è scelto Largo Mamiani in quanto posizione strategica e meno rivoluzionare rispetto alla storia del mercato delle erbe, tant'è che di fatto cambierà solo il lato della piazza. Soluzione gradita anche perché al coperto così come gli ambulanti hanno gradito altre due garanzie, quella del rientro al San Domenico una volta terminato il cantiere previsto a fine 2026 e quella della salvaguardia del lavoro estivo con il trasloco da effettuare entro fine settembre. Sono 200 metri quadrati dove c'era l'informa giovani Largo Mamiani il prezzo dell'affitto annuale è diciamo equo rispetto poi 200 metri quadrati e sono sette gli operatori che si spostano quindi poi si divideranno equamente i costi. Penso che sia stato fatto un grandissimo lavoro per dare l'opportunità a tutti gli operatori di rimanere in vita perché lo spostamento noi sappiamo che a livello commerciale crea dei danni molte volte anche incalcolabili e però in tre anni poi hanno la garanzia di tornare indietro dove erano e questo è un altro ringraziamento che facciamo all'amministrazione la storia e la tradizione è stata garantita, per noi è già tanto.